Il tolco comincia così. Ho tanti amici, moltissimi conoscenti. Tantissimi mi conoscono per le migliaia di chilometri che percorro in bici, zaino in spalla, sui giù per lo stivale. Tanti altri mi conoscono per la mia grande passione, lo sci, e per qualche bella medaglia vinta quella in giro per il mondo. Altri ancora mi conoscono per la mia professione di export manager, che mi ha consentito ad oggi di puntare ben 99 bandierine sul mappamondo di casa. E di vivere esperienze davvero indimenticabili, alcune molto originali. Sono stato vittima di un rappimento lampo a Lagos, in Nigeria. Ho ricevuto una proposta di matrimonio a Khartoum, in Sudan. Ho guidato da Carracci a Islamabad, attraversando tutto il Pakistan a caccia di nuovi clienti. È chiaro che vi voglio parlare di me oggi, ma non sarà certo di queste mie avventure, di queste esperienze, di queste vittorie. Sì, perché io credo che per lasciare veramente il segno si debba andare molto più in profondità. E quindi oggi per voi ho deciso di togliermi tutto. camicia, pantaloni e anche le mutande. Il bambolotto biondo, che vedete in questa foto, sono io, un adolescente sereno, sorridente, in una famiglia serena. E in questa foto sono sempre io qualche anno più tardi, durante il periodo universitario. Sempre sorridente, ma forse già meno sereno. Questa foto, che a me piace molto e piaceva moltissimo alla mia cara mamma, ha in realtà un difetto, e sono i miei occhi. Quel lucichio è l'effetto di una bellissima serata tra amici, a base di lupolo. A ben vedere ho trascorso la maggior parte della mia vita, versando nel mio corpo svariati liquidi, alcuni buoni, altri assolutamente schifosi. E la prima volta potrebbe essere stato già a quell'età, in quel periodo, all'adolescenza, quando come da tradizione in famiglia, io, come da tradizione in famiglia, eramo soliti consumare il rito del travaso del vino. Ora, è difficile dire quanto buono fosse stato per me quel primo sorso, quando, in maniera tutta goliardica e innocente, io e mio fratello Leo eravamo soliti assaggiarlo direttamente dalla canna della damigiana. In più di qualche occasione, durante la mia gioventù, sicuramente ho alterato deliberatamente i miei sensi. Ma nulla di strano, semplicemente ero solito trascorrere i fine settimana con gli amici, partecipando ad aperitivi, a pranzi, a cene, a feste di qualsiasi tipo, a matrimoni, vorrei dire anche a funerali a volte, e dove l'alcol, in quanto vero e unico collante della nostra società occidentale, ormai da secoli, era presente in dosi massicce, e lo è evidentemente anche oggi, in ogni momento di socialità. Ecco che io trovo questa definizione fare particolarmente al caso mio. Social drinker. Ma sempre per dirla all'inglese, drinking was fun until it was not so fun. Che all'italiana sarebbe un po' come dire bere è bello o divertente, fino a che a un certo punto non lo è più. L'estate 2019 rappresenta per me l'inizio del dolore, quando vengo colpito contemporaneamente da due lutti, la perdita di mia madre e la fine di una relazione, lunga, complicata, ma intensa e piena d'amore. È in quei momenti che comincio a cercare degli spazi di libertà, sono spazi di unicità tutti per me, spazi di beata solitudine, li ho chiamati, una sorta di zona di comfort dove non ci sono né conflitti e né tragedie. Però ben presto quella beata solitudine si è trasformata in disperata. Sì, perché la verità è che io viaggiavo e mi sentivo solo. Gareggiavo con gli sci e vincevo e mi sentivo solo. Pedalavo e mi sentivo solo. Condividevo la mia vita sui social e mi sentivo solo. E solo fino a quando? Fino a quando faccio la conoscenza, dico lei che da lì a poco sarebbe diventata la mia unica vera amica. Eccola qua. La scimmietta. Sempre più presente, le piaceva posizionarsi qui sulla mia spalla destra. Sorridente, affettuosa. Le piaceva farsi notare soprattutto dopo una dura giornata di lavoro. E si faceva viva con frasi del tipo Ehi Carlo, mamma mia, ma che giornata hai avuto? Ascolta, cosa dici? Ci fermiamo per una birretta. Visto che è una sola, la facciamo mari media. Mari anche da 8-10 gradi. Cosa ne dici? È chiaro che poco a poco, a causa, o grazie alla cara scimietta molesta, io non ero più social drinker. E non ero nemmeno problem drinker. Sì, perché dovete sapere che esiste anche il problem drinker. che è colui che per sentirsi veramente figo ha sempre bisogno del bicchiere riempito. Per sentire quell'ebrezza. O per avere quella spintarella in più che gli consenta, che ne so, di prendere la parola su un palco importante, ad esempio. Oppure di approcciare ad una persona che lui o lei pensa o pensano che possa diventare la donna, l'uomo della propria vita. Ecco, voi avete mai incontrato una persona così? Allora, io ormai non ero più social drinker, non ero mai stato problem drinker, ero qualcos'altro, ero oltre, evidentemente. Ero solo drinker. Dove attenzione, solo, non sta per solo un bicchiere. Sta per drinker da solo. È evidente, quindi, come io avessi perso il controllo. E allora io dico, ma come tu, Carlo, persona così libera, ribelle, libera per definizione, diciamo così, ecco, io mi sentivo in realtà in catene, mi sentivo imprigionato. Il primo gennaio 2022 è la data che non posso dimenticare. Ero reduce da un capodanno che definirei spumeggiante, sempre in sua compagnia, la cara scimmietta molesta. Però quel giorno avevo in programma anche un allenamento di slalom gigante, proprio il primo dell'anno, in alto piano, qua vicino. Ricordo come ci misi ore ad alzarmi dal letto quella mattina. Mi sentivo completamente risucchiato, assorbito, un tutt'uno con il lattice del materasso. E chiaramente non ci fu nessun allenamento quel giorno. Però ci riprovai il giorno successivo e mi presentai così. Occhi gonfi, sovrappeso, all'incirca 10 kg in più rispetto al mio peso normale. Nonostante tutto, feci anche dei tempi straordinari in quella sessione di allenamento. Sì, perché quella, io volevo forse la stagione della mia riscorsa sportiva. In calendario c'erano i campionati mondiali master di sci alpino a St. Moritz, in Svizzera. E io volevo esserci con tutto me stesso. Ma da lì a poco la realtà mi arrivò in faccia come un treno in corsa. E ad una settimana da quel bellissimo evento la mia stagione terminò così. Quel giorno al pronto soccorso per ore mi chiesi il perché di così tanta sfiga. Ma già lì realizzai, non era sfiga, c'era qualcosa di molto più profondo e si chiama autosabotaggio che io potevo superare, sconfiggere solamente mi andando a fare in culo una volta e per sempre la cara scimmietta molesta. Ma come fare? È il Dalai Lama che ci insegna che è con l'allenamento che trasformiamo noi stessi. Oltre a avermi fatto bruciare milioni di calorie, lo sport mi ha consentito di allenare il mio corpo e la mia mente costantemente. E allora io corro, pedalo, alzo quintali di ghisa, mi butto giù per le montagne a 120 km all'ora, però lei, la cara scimmietta molesta, è ancora qui. Resiliente, con due palle così. È sempre in quell'anno, d'estate, quando trascorro un'intera giornata pedalando su e giù per i nostri passi dolomitici per ben oltre 100 km e più di 2000 metri di dislivello positivo. Tutto meraviglioso. Fino a quando, però, una volta terminata la mia fatica e sceso dalla bici, mi accorgo che il mio cuore comincia ad accelerare. Andrò completamente fuori giri, ben oltre i 200 battiti al minuto. E senza apparente motivo. Alzai la mano immediatamente e chiesi aiuto a due escursionisti di passaggio. Si trattava di fatto di due angeli, perché loro sapevano esattamente cosa ci fosse da fare in quel momento. Mi fecero sdraiare, mi presero le gambe e me le alzarono. Il me le tenero qualche minuto. Mi diedero l'unica bustina di magnesio che avevano con loro in quel momento. Dopo poco il mio battito si ristabilì. Scusa Carlo, e tu la sera prima con chi eri? Sempre con lei. Era ancora qui. Credo non serve ricordare come l'eccesso, l'abuso di alcol contribuiscano ad alterare l'equilibrio idrosalino del nostro corpo. Vi posso garantire, amici, che quello è stato per me il momento in cui ho deciso di dire basta, perlomeno nella mia testa. Parto per Lourdes a primavera di quest'anno, insieme ad un gruppo di amici meravigliosi, tra cui Sara, la mia mentore, che è qui presente in platea. Ricordo come in quei giorni risuonarono nel mio cuore le parole dell'Evangelista Marco. Noi tutti, in quanto uomini, in quanto esseri umani, non siamo fatti per rimanere soli. Noi siamo fatti per le relazioni. E le relazioni si alimentano solo se ci vogliamo bene, se abbiamo cura di noi. E quindi non c'è spazio per l'autosabotaggio. C'è un secondo momento che rimane indelebile diciamo all'inizio dell'anno, a marzo di quest'anno, quando ricevo il messaggio commosso e pieno di emozioni dal mio amico di sempre, Manuel. Io ho rei dulce della mia campagna canadese, i campionati mondiali master di sci alpino a Kimberley in British Columbia. In quei giorni, mi ricordo, pubblicai un reel, un video sui social dove raccontavo la mia esperienza, al di là dei risultati comunque brillanti. Manuel ne rimase profondamente colpito. E la sintesi del suo messaggio è in queste tre righe. Ora, io non so se si legga, comunque Manuel mi sta dicendo il 7 settembre prossimo hai cose da fare. E io, avendo colto immediatamente, risposi con un Dio mio. e lui con un sorriso. Credo sia arrivato il tuo momento. Per ore, per ore mi chiesi, scusate, vi tralascio l'emozione, la tensione, l'andrenalina che provai in quei momenti. Vorrei dire anche la sudorazione che sentii. Ciò che fin da subito pensai fu invece, Carlo, scusami, pensa un attimo, se fosse questa la tua vera occasione, la tua vera o grande opportunità di condividere con il mondo intero questo tuo viaggio verso la libertà. La clessidra, che spero abbiate notato in tutte le slide, è la mia time machine e rappresenta il tempo che scorre dal momento in cui ho deciso di posare l'ultimo bicchiere. e coincide con il giorno in cui coincide con il giorno in cui ho deciso di dire sì a Manuel per essere qui con voi oggi su questo palco. ritengo di essere una persona abbastanza intelligente o meglio dire tra le quali da che mi riconosco c'è l'intelligenza e quindi ritengo di essere una persona abbastanza intelligente per poter dire che il limite, il mio limite oltre al quale non posso e non voglio andare è zero. perché per me è tutto niente e quindi il mio limite è niente. Posso immaginare cosa qualcuno di voi potrebbe pensare ma dai Carlo, cosa mi dici ad esempio della cara nonna che ha spento fino a cento candeline sorseggiando la sua ombretta di rosso ogni sera? È vero, io sono con voi però io penso all'uomo disperato che a causa della devastazione dell'alcol ha perso tutto casa, lavoro e famiglia. sono stato limpido, cristallino con voi vi ho detto qual è il mio limite il limite oltre al quale non posso e non voglio andare e voi provate a pensare solo per un secondo quale potrebbe essere il vostro limite? non è stato facile per me oggi salire su questo palco togliermi tutto come vi avevo promesso ma oggi so che qualunque sia la storia di ognuno di noi non c'è ragione di temere il giudizio perché io ho imparato che se nel momento del bisogno alziamo la mano senza paura, senza vergogna troveremo sempre qualcuno pronto a tendercela perché non è da soli che si vince ma con la squadra grazie 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 grazie